Musica Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium e fa nell'ora ingresso le due squadre che dovranno affrontarsi per la semifinale di Lady's Cup La squadra entra e si può funzionare al centro del campo Le due squadre sono 500 Miles contro Criminal Girls Le due squadre che saluto nel loro pubblico Momento di fair play tra le due squadre L'abitro da Lise chiama se i due capitani per il sorteggio della palla del campo Tutto pronto ragazzi, buona semifinale di Champion Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.